Martedì 21 marzo dal Vangelo secondo Matteo capitolo 18 versetti da 21 a 35 In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette una colpa contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette Per questo il Regno dei Cieli è simile ad un re che vuole regolare i conti con i suoi servi Aveva cominciato a regolare i conti quando gli si presentò un tale che gli doveva diecimila talenti Poiché costui non era in grado di restituire il debito, il padrone ordinò che fosse condannato lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo Abbi pietà di me e ti restitirò ogni cosa Il padrone ebbe compassione di quel servo Lo lasciò andare e gli condannò il debito Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo Restituisci quello che devi Il suo compagno, prostratosi a terra, lo pregava dicendo Abbi pietà con me e ti restituirò Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti E andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato Non dovevi avere anche tu pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo dini in mano agli aguzzini Finché non avesse restituito tutto il dovuto Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello Cari amici, il Vangelo ci presenta oggi la parabola dei due debitori Il primo deve al suo padrone un debito enorme Diecimila talenti Quanti sono diecimila talenti? Diecimila era la cifra più grossa in lingua greca E il talento la misura più grande Diecimila talenti era una cifra enorme Il talento corrispondeva a 36 chili di metallo prezioso, oro o argento Diecimila talenti corrispondevano a 360 tonnellate di oro o argento Un talento era pari a 6.000 giornate lavorative Diecimila talenti era pari a 60 milioni di stipendi quotidiani Per pagare questo debito il servo avrebbe dovuto lavorare circa 200.000 anni La cifra è davvero esagerata Ma ci dà la misura dell'enorme debito che Gesù ha pagato per noi Il tutto, il fatto è che non ce ne rendiamo conto Non ne siamo del tutto consapevoli Sì, lo sappiamo, Gesù è morto in croce Ma questo a tanti che vivono nell'indifferenza Non fa né caldo né freddo Siamo pochissimo concentrati sulle nostre colpe e sui nostri peccati Ce ne scusiamo assai facilmente purtroppo E in confessionale si sente spesso dire Sono venuto a confessarmi ma, sa, non so cosa dire Non ho fatto niente di male Diventiamo così giudici implacabili, simili al servitore spietato Che non tenendo in alcun conto il trattamento di eccezionale clemenza Che gli è stato riservato Si scaglia contro un servo più miserabile di lui Che gli deve una cifra assolutamente irrisoria 100 denari Somma equivalente allo stipendio di 100 giornate lavorative È una cifra discreta Ma del tutto trascurabile rispetto al debito appena condonato Di 10.000 talenti Il giorno in cui capiremo l'infinito amore di Dio Sarà un grande giorno Un grande giorno di grazia Saremo finalmente in grado Di operare una vera, profonda, autentica conversione del nostro cuore E saremo in grado di esprimere al Signore la nostra riconoscenza Mettiamoci davanti al crocifisso In questo tempo di quaresima E ripetiamo finché ne siamo capaci Grazie Gesù Per salvarmi Hai dato la tua vita per me Grazie Gesù Per salvarmi Hai dato la tua vita per me Buona giornata